Polizia Provinciale, Corpo Forestale e Associazioni Piscatorie sono state impegnate ieri sera dalle 19 all'una per un servizio congiunto di vigilanza fluviale nel tratto di Po da Piacenza fino a Castelvetro. Al servizio, organizzato dal Comando di Polizia Provinciale e coordinato dal dipendente nucleo tutela faunistica, hanno partecipato due pattuglie di Polizia Provinciale, una pattuglia del Corpo Forestale, 16 guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie AEOP, Arcipesca Fisa, Enalpesca e Fipsas. Nonostante i pochi pescatori presenti sul grande fiume, sono stati effettuati una quindicina di controlli ed elevate due sanzioni, una di 160 euro a un pescatore di nazionalità italiana per attività di pesca senza licenza, l'altra di 100 euro a un pescatore di nazionalità russa per detenzione di circa 50 kg di pastura in quantità superiore al massimo consentito. Da segnalare che durante i controlli non è stata riscontrata la presenza di pescatori di mestiere, per i quali la pesca risulta sospesa sino al 31 dicembre 2015, come previsto dal provvedimento del 21 luglio scorso emanato dalla provincia di Piacenza a tutela della fauna ittica. Il servizio di controlli congiunti sarà ripetuto nelle prossime settimane.